In questo video scopriremo quali sono le migliori marche di design, di allegamento e in modo particolare vedremo come scegliere il marchio della nostra cucina. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Chiara e sono un interior designer. In questo video parleremo delle caratteristiche che determinano un brand di qualità, quindi come scegliere un brand per la sua qualità e non per tutto ciò che può rotare intorno come per esempio il marketing. Faccio un piccolo disclaimer prima di iniziare, ovvero questo video non era programmato dal mio calendario degli argomenti che avrei voluto trattare ma mi è stato richiesto a gran voce perché recentemente Valentina dell'Anglo del Focolare, che è un altro canale YouTube che parla di... non è incentrato sull'arredamento ma parla comunque di casa, di te in casa. Insomma nel suo canale ha pubblicato un video in cui parlava della sua cucina in Chiame. Ho lasciato un commento sotto il video di Valentina in cui appunto dicevo che mi piaceva la finitura della sua cucina e che fortunatamente non era l'ennesima cucina a Scamolini. Da lì c'è stata un po' una diatriba, 50% mi ha sostenuto dicendo come mai Chiara spiegaci perché e la sua 50 invece mi ha detto come ti permetti Scamolini non si tocca. Comunque mi è stato chiesto a gran voce quindi consigliare che cosa determina la qualità di un brand di arredamento. Io parlo per la competenza che ho in qualità di interior designer appunto, quindi di cucina e di obiste, toccato diverse qualità, non solo sulla base, sì possiamo dire sulla base personale ma anche su quelle dei clienti, quindi tutti i giorni mastico del design insomma e dell'arredamento. Quindi parlo con gli assistenti alla vendita, parlo con chi realizza i stessi mobili, per cui ho un po' di conoscenze per cui posso prendere l'iniziativa insomma di fare questo video. Detto questo, questo piccolo disclaimer è stato fatto, possiamo iniziare. Sotto nello stesso video di Valentina molti dicevano che si sono trovati benissimo con una cucina Ikea e dico Ikea perché loro parlano di, hanno proprio parlato di Ikea e altri che invece dicono di essersi trovati malissimo così come tante persone hanno scritto di essersi trovati mali con una cucina, faccio l'esempio a Scavolini perché è saltato fuori l'argomento Scavolini, tante persone hanno detto di essersi trovati mali con una cucina Scavolini e altre hanno detto di trovarsi invece benissimo e che non cambierebbero per nulla il mondo. Ma anche qui vi metto qua sotto anche il link di questo video di cui vi parlo, così se volete farvi un viaggio nei commenti vedete un po' quello che pensano le persone in generale insomma dei vari brand. Quindi come mai certe persone si sono trovate bene con delle cucine Ikea pagate pochissimo e altre che invece si sono trovate male e altre persone che addirittura si sono anche trovate male con una cucina Scavolini. Io posso per esempio parlare del mio caso. Io ho una cucina che ho pagato 800 euro in un negozio che vende del Bicolage, una cucina completa con il lavabo, con i pensieri, le basi, i domestici tutti i becchi, una cucina base e ce l'ho da circa 6 anni. Ho preso questa cucina perché prima di venire ad abitare in questa casa vivevo in una casa in affitto che ho completamente arredato io perché è un difetto professionale forse. Ho comunque comprato tutti i mobili e mi è sembrata fare la scelta più ovvia siccome ero in affitto prendere dei mobili di bassa qualità e prenderli semplicemente per la funzionalità e per l'estetica. Quindi non mi interessava assolutamente la qualità perché sapevo che non ci avrei passato tutta la vita in quell'appartamento e quindi in caso in cui avessi comprato casa mi sarei, come ora, mi sarei comprata tutto l'avredamento adatto, specifico per la casa in cui sarei andata a vivere. Per cui la cucina pagata 800 euro che ho messo il primo appartamento l'abbiamo smontata e portata in quest'altra casa temporaneamente. Questa cucina, nonostante abbia sei anni e abbia avuto anche un trasloco, è perfetta. Tutto funziona alla perfezione, non c'è nulla di ligato. Sì, il top non è proprio in condizioni ottimali ma comunque presenta ancora bene. Tutti ancora continuano a farci i complimenti per la cucina. Io che sono nell'ambito dell'avredamento magari vedo i difettucci, vedo che magari non ci sono le cerniere ancora proprio perfette, che magari non so quanto tempo ancora possano vivere, possano resistere, ma comunque ha i suoi anni e ha il suo vissuto appunto. Quindi io mi sono trovata bene con una cucina super economica. Ma perché questo? Perché io non sono una persona che passa tutto il suo tempo in cucina. In cucina ci trascorriamo la cena, giusto quella mezz'ora per preparare la cena, mangiare e correre a letto. Questi pasti di solito si compongono di un primo o di un secondo. Facciamo chissà quali dolci. Insomma, il tempo che passiamo in cucina è veramente preparare un primo, preparare un secondo, consumarlo nell'arco di mezz'ora e poi riprendere le nostre attività quotidiane. Quindi non siamo persone che vivono la cucina come magari qualcun altro. Noi conoscevamo i materiali che abbiamo acquistato, conoscevamo i meccanismi, le nostre abitudini, sapevamo quelle che sarebbero state le nostre abitudini e quindi abbiamo potuto acquistare una cucina economica d'occhi chiusi, senza avere sorprese. Anzi, ci siamo complimentati con noi stessi per la scelta, nel senso che abbiamo detto caspita, anche questa cucina sta tenendo duro e sta dando veramente il meglio di sé. Quindi anche di un brand di arredamento non valgono più nulla la sua reputazione o il suo prezzo, come ho letto tra i commenti di quel famoso video che la qualità si paga ma può si vede. Sì, la prova la sua verità a metà. Questo perché? Allora, prima di addentrarci nel mondo di come funziona il mercato dell'arredamento, vorrei fare delle precisazioni. sperando di darvi tutti i dettagli necessari affinché voi possiate appunto avere gli strumenti che vi servono per scegliere ciò di cui più avete bisogno quando dovete comprare gli arredi per la vostra casa. Allora, tenete sempre in considerazione il fatto che non sempre i venditori, gli assistenti alla vendita di un negozio di arredamento, siano delle persone qualificate. Non tutti sono interior designer, non tutti sono architetti e purtroppo spesso non tutti conoscono quello che stanno cercando di venderti, ovvero non conoscono tutte le caratteristiche del materiale che ti stanno proponendo, non tutti conoscono i meccanismi delle ante e come andranno a reagire con l'utura nel corso del tempo. Vorrei sapere se chi ha comprato, torniamo sempre all'esempio della cucina, delle cucine, quante persone gli abbiano chiesto di parlare delle vostre abitudini. Questo è il fatto di discutere delle abitudini in cucina, del fatto che si passi tanto tempo, si passi poco tempo, come ci si muove all'interno della cucina, sono degli aspetti fondamentali e non sempre chi sta vendendo la cucina chiede queste informazioni. Per un assistente di vendita, per un commerciante, purtroppo il suo scopo principale è quello di riuscire a vendere, cosa che nel primo obiettivo è vendere, secondo obiettivo è cercare di vendere al prezzo più alto. Se il commerciante, se l'assistente alla vendita è una persona etica, cerca di fare anche un lavoro di contorno, ovvero cercare di fare proprio assistenza, di cercare dove vede e consigliare in base alle esigenze del cliente. Per questo motivo, tenendo in considerazione questo aspetto, per sovvenire a questo problema, a questa difficoltà, alcune persone intenzionate a comprare l'arredo mettono un intermediario, che è la figura dell'interior designer, che agevola le due parti. L'interior designer magari non conosce di per sé il prodotto finale, ma conosce tutti i materiali, o gran parte di questi, i meccanismi, le tecnologie, soluzioni per i vari spazi, in maniera che possa fare gli interessi del suo cliente. E il suo cliente, tra l'altro, dà anche un'indicazione del prezzo, del budget che è disposto a spendere. Quindi l'interior designer prende questi elementi, quindi le necessità del cliente, il budget che è disposto a spendere, ciò che ha bisogno realmente, suggerisce al cliente i materiali, i colori, il posizionamento dei vari elementi, quindi lavabo, fuochi in una determinata posizione e quant'altro, insomma. E queste, dopo aver preso in considerazione tutti questi aspetti di cui il suo cliente ha bisogno, va alla ricerca della, in questo caso, torniamo in caso alle cucine, della cucina perfetta del suo cliente. Spero di essere stata abbastanza chiara, nel caso scrivetemelo qua sotto nei commenti, cerco di rimediare, ma parlando è un po' più difficile. Però vorrei farvi anche riflettere su un'altra questione, ovvero, Siamo noi, noi stessi, che ci facciamo un'idea del valore di un brand. Ogni persona percepisce un brand in maniera diversa rispetto ad un'altra persona, in base alle esperienze accumula nel corso della vita. Per esempio, le persone che hanno risposto al commento scrivendo scavolini per tutta la vita sono persone che considerano scavolini il brand migliore in assoluto, perché, come hanno scritto loro stesse, la madre l'aveva, la nonna l'aveva e è rimasta impeccabile nel corso degli anni. Per altre persone è stata la stessa cosa con il brand idea. Quindi, noi diamo un valore ad un brand secondo quello che sta a fare la nostra esperienza. Loro hanno avuto, probabilmente queste persone, hanno avuto esperienza solo con i brand scavolini. Ovviamente, un interior designer ha esperienza con diversi brand. Vede tantissime cucine, tocca alla qualità di tantissime cucine e quindi può parlare a nome di tutte le brand che compongono il mercato. O quasi tutte comunque, una buona parte. Anch'io ho tantissime esperienze con clienti che mi chiedevano solo cucine scavolini. Per favore, per la mia casa vorrei una cucina scavolini, perché pensiamo che sia la migliore sul mercato. Scavolini è un'ottima marca, appunto, che continuo a ripetere, ma perché tutti mi chiedono scavolini per il lavoro di marketing che fa, ovvero è sempre sulle riviste, sempre in televisione, fa continuamente campagne di marketing, pubblicità, per cui è entrata, come vi parlavo prima, in base riguardo alle esperienze, entrate ormai nel nostro immaginario come la cucina più amata degli italiani, quindi tutti mi chiedono scavolini. Ci sono delle cucine che sono qualitativamente, parlando migliori, e anche delle cucine di lusso. Ovviamente bisogna sempre prendere in considerazione diversi fattori quando si cerca la cucina ideale per noi, quindi base, funzionalità ed estetica. Ci sono linee di arredamento di fascia medio-bassa, fasce medie, fasce medio-alte, fasce alte e poi, appunto, fasce di lusso. Ma se volete fare riferimento a una cucina di fascia alta, allora in quel caso bisogna già iniziare a cercare cucine del brand Dada o Ban Cucine. Quindi un'altra cosa, tra l'altro, da prendere in considerazione quando si è alla ricerca della cucina e si cerca la cucina migliore in assoluto, ovviamente oltre ai materiali c'è poi tutto il discorso da fare sugli edifici domestici, che spesso sono i principali responsabili del prezzo di tutta l'intera cucina. Quindi state attenti a non considerare la cucina di qualità per via del prezzo per cui voi andate a pagarla. Immagino quindi che forse qualcuno si aspettava che io dessi nomi di cucine di qualità in questo video o comunque arredamenti in generale che rispettassero i criteri di qualità per un interior designer come me, ma mi dispiace dire che la risposta è molto soggettiva. C'è tantissimo da quello che cercate in termini di budget, estetiche e funzionalità, come vi ho detto prima, e le abitudini all'interno di casa. Quindi solo una consulenza personalizzata può aiutarvi con un interior designer, mi raccomando, non con un'assistente alla vendita, può aiutarvi, indicarvi la soluzione ideale a voi, dirvi quello che per voi dovrebbe corrispondere la qualità, la soluzione migliore rapporto qualità-prezzo. Come sia le cucine di alta qualità, vi ho detto quale sono secondo me, anche secondo tantissimi altri professionisti, secondo me potete anche fare una ricerca online e vedrete che dare le val cucine sono quelle che per il rapporto qualità-prezzo sono comunque considerate di una fascia alta. Mi raccomando, quindi i Kia e Scavolini non sono gli unici brand che producono cucine, abbiamo anche altri brand qualitativamente ottimi, sempre secondo i criteri che vi ho espresso in questo video, e per esempio ci sono Stosa, c'è Veneta Cucine, c'è Berloni, Feber e Snelliero, che hanno anche loro un ottimo rapporto qualità-prezzo, forse per chi cucina più di me possono andare bene. Detto questo, io spero di esservi stata d'aiuto in qualche modo, spero davvero di avervi dato qualche criterio in più per la scelta della vostra cucina, ho davvero pensato tanto a cosa inserire in questo video, perché appunto essendo una risposta molto soggettiva, io volevo comunque essere d'aiuto, rispondere veramente alla domanda che mi è stata posta, e insomma spero di averlo fatto in questo video con tutti gli strumenti che potevo avere. Se comunque avete altri dubbi, non vi fate problemi, scrivetemi qua sotto nei commenti, mi fa piacere potervi aiutare il più possibile. Se avete altre domande per altri video, anche qua, scrivetelo qua sotto nei commenti. vi chiedo anche di supportarmi lasciandomi un pollice in su, iscrivetevi al canale, e cliccate anche sulla campanella per non perdervi i prossimi video che usciranno. Qua sotto vi lascio anche il link per iscrivervi alla newsletter, vi manderò a tutti gli articoli che usciranno sul blog, sempre a tema di arredamento con altri consigli. Mi raccomando, andatevi anche a seguire su Instagram, dove pubblico contenuti quotidianamente. Vi do a rivederci al prossimo venerdì alle 14.30 con un nuovo video. Ciao!